Allora siamo pronti per iniziare il nostro pellegrinaggio quest'anno, siamo con la bandiera dell'oratorio e dell'Ucraina, ma prima di iniziare e di cantare, parte? In Ucraino però eh! Allora... Oltre a cantare Don Bosco Ritorno facciamo tanti auguri ad Artur che oggi fa 12 anni! E Nicola vi porta una crostata perché le creme non le possono mangiare. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Artur, tanti auguri a te. Aspetta, ora si sta a bruciare la mano? Pronti? Aspetta! Predi la crostata? E così possiamo così iniziare il nostro pellegrinaggio, siamo pronti, ci sentirete per le strade, stiamo andando verso Gaeta e così siamo pronti a partire.